Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di assegno unico e universale IMSI. Infatti dalle scorse ore è online il sito web dedicato. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. È online il sito web dedicato all'assegno unico e universale come è stato specificato dall'IMS con l'ultimo messaggio. Con tale messaggio l'istituto di previdenza sociale ha quindi lanciato un nuovo portale che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot mandati per radio, dove è possibile reperire tutte le informazioni riguardanti l'assegno unico universale. Su chi potrà fare ovviamente domanda, chi sono i vari beneficiari, quanto spetta e quali voci della busta paga o della pensione andrà a sostituire. E inoltre è possibile anche consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall'IMS sulla base delle domande che sono poste direttamente dagli utenti. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.